Se siete approdati in questo canale è perché siete appassionati di stampa 3D e volete esplorare il vasto mondo dei firmware per le vostre stampanti. Allora lasciate che vi presenti il mio ultimo libro, il firmware Marlin edizione Gold. Questo libro è una guida completa e accessibile su come compilare un firmware personalizzato per la vostra stampante 3D. Approfondendo gli argomenti in modo chiaro e conciso, il libro permetterà di padroneggiare il firmware delle vostre stampanti. Ho cercato in 5 pagine di semplificare i concetti complessi associati al firmware per renderli accessibili a tutti, anche a coloro che sono nuovi nel campo della stampa 3D. Ogni argomento è spiegato in modo chiaro ed è accompagnato da esempi pratici, illustrazioni dettagliate e istruzioni passo passo. Sarà come avere un esperto accanto a voi pronto a guidarvi nel processo di compilazione del firmware ogni giorno che ne abbiate bisogno. Ad ogni lezione poi sono associate alcuni video che potrai trovare sul mio canale. Non perdere l'occasione di studiare e approfondire la tua cultura su questo argomento. Trovi il link in descrizione per acquistarlo.